Rampollo di una nobile famiglia di britanni romanizzati, Patrizio viene rapito ragazzino, da feroci pirati irlandesi, che lo tengono in schiavitù per sei anni, come guardiano di pecore. Sarà proprio in quella solitudine, dove unici compagni gli sono il freddo, la fame, e la paura, che Patrizio troverà nella fede la forza di riscattarsi, e di trascinare in questo riscatto i suoi stessi oppressori. Quegli irlandesi, che lo eleggeranno santo, e loro patrono. E che in suo nome, riporteranno la civiltà nell'Europa travolta dalle invasioni barbariche. Per la prima volta in italiano, Patrizio, confessione. Lo trovate su www.librifinisterrae.com